Benvenuti in casa Renault, siamo a Carmagnola in via Chieri 139 e il mio benvenuto va a lui, Luca Costantini, ciao! Buongiorno Sonia, buongiorno a tutti! Tutta la gamma Renault in pronta consegna da venire assolutamente a vedere, provare, acquistare e perché no? Anche Zoe, 100% elettrica, stanno quasi finendo gli ecobonus, le agevolazioni tanto apprezzate per cui affrettiamoci! Assolutamente Sonia perché ricordo che appunto l'ecobonus sta per terminare e ci sono fino a 6.000 euro di sconto quindi approfittatene! Un'auto sicuramente da venire a vedere ma anche a provare e io vi dico che la guida è veramente particolare e sicuramente riscuoterà tanto successo nel mercato, ma andremo adesso a vedere il resto della gamma Renault e soprattutto le promozioni firmate, Varca state con noi! Grazie Sonia, benvenuti a tutti! Partiamo subito da Renault Clio, allestimenti Moschino, pronta consegna, benzina, diesel e GPL a partire da 179 euro al mese senza anticipo Passiamo a Renault Captur, ecobonus Renault fino a 5.500 euro, pronta consegna con i nuovi motori 130 cavalli, 150 cavalli e 150 cavalli e DC a benzina Ecco qui il nostro nuovo Cajar, a partire da 250 euro al mese senza anticipo, pronta consegna col motore nuovo 1500 blu DCI da 115 cavalli e anche pronta consegna i motori benzina E passiamo a Dacia con la Sandero Stepway e Sandero Streetway, pronta consegna, benzina e diesel e in arrivo anche le motorizzazioni GPL, tua da 3 euro al giorno Ecco qui la nostra chicca, il nuovo Dacia Duster Tech Road, pronta consegna, benzina, diesel e anche i GPL con il motore 1.6 115 cavalli, pronta consegna, vasta gamma di colori a soli 5 euro al giorno Veniteci a trovare alla Varca E proseguiamo parlando di usato Fiat Panda 4x4 2015, tua ad un prezzo incredibile, soli 11.600 euro Suzuki Gran Vitara, unico proprietario 29.800 km, prezzo super, soli 13.500 euro Renault Captur, 1.5 DCI 90 cavalli, euro 6B, tua a 8.800 euro Mostriamo insieme questa fantastica Renault Cajar, allestimento Hypnotic 2, anno 2017, prezzo incredibile, soli 16.000 euro E concludiamo insieme questa nostra carrellata usata con Renault Coleos, anno 2018, unico proprietario tua a soli 32.500 euro Grazie Daniele per questa selezione, occasioni Renault Selection Io vi dico che qui da Varca c'è molto di più Venite quindi a visitare questo bellissimo showroom a Carmagnola E sono sicura che non ne pentirete perché Varca esiste dal 1976 Alla prossima! Alla prossima